Ciao, la novità letteraria che ti presento è un romanzo tra le strade affollate di Calcutta, tra i segreti e le pulsioni recondite della piccola società europea che gravita attorno al gioco pericoloso del viceconsole e della bellissima e nevrotica moglie dell'ambasciatore francese. Tensione psichica, desiderio represso e atti estremi ti lasceranno un segno indelebile nella mente. La trama del libro Il viceconsole di Marguerite Duras, edito da Feltrinelli, è la seguente. Fra le strade di Calcutta, affose e cariche di umanità, si annida una piccola società europea che ruota attorno alla fragile, incantevole, nevrotica Anne Marie Stretter, moglie dell'ambasciatore francese. Si balla e le luci sono accese nell'ambasciata di Francia, in bilico tra il rispetto delle forme della buona società e il cedimento a una deriva sensuale che pare inevitabile sotto il peso di quei climi spossanti. Tra gli ospiti che subiscono il fascino sottile di Anne Marie c'è il viceconsole di Francia Laure, Jean-Marc de Hacca, a Calcutta in attesa di trasferimento. Uomo inquietante, dotato di un fisico massiccio da cui esce una incongrua voce in falsetto, il viceconsole è malvisto ed evitato persino dai suoi pari, che non gli perdonano di essere decaduto dal suo ruolo in modo misterioso. Si vocifera che, come capitato prima di lui a molti europei in India, i suoi nervi abbiano ceduto, portandolo a uccidere qualcuno mentre sparava senza discrimine dal suo balcone verso i giardini in cui trovavano rifugio le brosi e cani. Marguerite Duras a seconda, in questo romanzo allucinato e visionario, la sua predilezione per ciò che è acuto, estremo, intollerabile, coinvolgendo i suoi personaggi in contrapposizioni esasperate, tensioni psichiche protratte, atti che illuminano con un subitaneo bagliore lo scenario della vita. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.